L'emergenza sanitaria e le tante polemiche sulla linea assunta dall'amministrazione comunale stanno contribuendo a far scattare meccanismi politici che solo poche settimane fa sembravano riposti in attesa di tempi migliori. Tra i ranghi della maggioranza del sindaco Lucio Greco per certi aspetti sono volati gli stracci e ieri l'avvocato intervenuto non era praticamente mai accaduto a difesa di un proprio consigliere di riferimento, il vicepresidente della commissione bilancio Romina Morselli, esponente di un'altra Gela. Ormai fuori dall'alleanza arcobaleno il PD lancia comunque segnali di distensione senza precludere l'ipotesi di una ripresa del dialogo. Lo ha spiegato il segretario provinciale del partito Peppe Di Cristina. Secondo l'ex segretario cittadino sulle prospettive della città il partito dialogherà con tutti. Se chiamati alle nostre responsabilità detto non ci tiriamo indietro. Il dialogo però non sarà mai su poltrone, posti o esperti da nominare aggiunto. Secondo Di Cristina il PD rimane al servizio della città e l'unico orizzonte è proprio la città. Nella maggioranza comunque c'è chi ha deciso di fare anche una sorta di appello pubblico dai banchi della Sise Civica occupati dai consiglieri di Liberamente Vincenzo Casciane, Pierpaolo Grisanti e da quelli dei forzisti Luigi Di Dio e Carlo Romano arriva un tentativo di andare oltre l'attuale frammentazione. Spiegano che le polemiche tra le varie anime in genere determinano divisioni che sono solo di una politica stantia che separa invece di unire che recrimina invece di suggerire hanno scritto anche sui social. I due consiglieri di Liberamente non hanno mai fatto mancare visioni politiche e amministrative piuttosto critiche rispetto a scelte anche importanti formalizzate dal sindaco. Negli ultimi tempi inoltre qualche tensione sembra essere maturata nei rapporti piuttosto freddi tra i fedelissimi di Greco e la gruppo forzista tanto che domani dovrebbe tenersi un confronto tra l'avvocato e il deputato regionale Michele Mancuso. Ieri però i quattro consiglieri hanno scelto di rendere pubblico l'appello che richiama l'obiettivo del bene collettivo e che potenzialmente potrebbe essere rivolto anche all'opposizione. L'unità di intenti tra gli esponenti di Liberamente e i forzisti potrebbe aprire nuovi scenari nella maggioranza del sindaco anche se al momento puntano esclusivamente sull'invito a superare le divisioni. Il sindaco impegnato nella gestione dell'emergenza dovrà stare molto attento a quello che accade tra le fila dei suoi alleati anche per non perdere prezioso terreno politico.